Secondo test per la Nissa sotto forma di allenamento congiunto e secondo successo. La formazione di Niccolò Terranova si è trovata ad affrontare il Bagheria in un match nel quale la combagine palermitana, nonostante abbia iniziato da poco la preparazione, ha disputato un allenamento congiunto nel suo complesso buono. Per la cronaca il confronto si è chiuso 3-1 con le reti del fantasista Mansur dopo 13 minuti, di Bollino 4 minuti più tardi, mentre nella ripresa ha segnato il terzo gol della Nissa, Semenzin è subentrato a Bollino. La squadra del presidente Luca Giovannone tornerà in campo per il terzo allenamento congiunto nella giornata di sabato 10 agosto, quando affronterà al Tomaselli l'Unitas Sciacca alle ore 18.